Ciao! Buongiorno! La cosa nossa soficiente! Allora... ...quasi... E... Già da giù... Guarda, ci siamo mai riposti... Ho mai riposti... Sì, sì, sì... Sì, sì... Sì, sì... Guarda, i riposti che possiamo andare perché... Sabato... C'è il Papa... Un... ... ... ... ... Sì, non c'è quattro persone, non c'è quattro persone, non c'è quattro persone. Si, non c'è quattro persone, non c'è quattro persone. Grazie. Grazie.